buongiorno signore e signori ragazze e ragazzi oggi voglio presentarvi kawasaki z 900 rs se yellow ball la kawasaki z 900 rs se ci riporta alla mente la mitica 0 z 900 degli anni 70 in particolare questa colorazione che vediamo bene nell'immagine yellow ball ripresenta nella colorazione modello z1 del 1972 il motore a quattro cilindri in linea e da una cilindrata di 948 cm cubici il raffreddamento a liquido la potenza di 111 cavalli 8.500 giri al minuto la coppia massima risulta di 99 newton metro 6.500 giri con un cambio a 6 marce il telaio ea traliccio in acciaio ad alta resistenza e la sospensione anteriore formata da una forcella rovesciata da 41 mm con la regolazione dello smorzamento in estensione e del precarico della molla con esclusione di 120 mm la sospensione posteriore backlink orizzontale alla regolazione dello smorzamento in estensione e del precarico della molla con ammortizzatore posteriore con regolazione del precarico caratterizzato da un corpo in alluminio e l'escursione della ruota di 140 mm il freno anteriore vediamo nella foto è formato da un doppio disco brembo da 300 mm con pinze sempre brembo monoblocco ad attacco radiale m 4.32 e pompa radiale nissin con tubi nel treccio d'acciaio inossidabile il disco singolo naturalmente al posteriore da 250 mm la misura dei cerchi per questi bei cerchi color oro da 17 pollici con un serbatoio carburante da 17 litri il peso in ordine di marcia di 205 15 kg scusate completano il quadro di questa bella moto che vediamo si presenta con molte parti dorate quindi le due ruote a razze però con le razze molto fini che quasi richiamano al memoria appunto le ruote a raggi degli anni 70 inoltre anche la forcella vedete molto bella con la sua colorazione oro che contrasta con il nero del motore e della restante parte come ad esempio dei fianchetti che vediamo qui in evidenza molto bello anche molto performante oltre che bello anche l'amortizzatore hollis nonché le sospensioni la forcella anteriore quindi una moto che ha dalla sua insomma anzitutto un richiamo storico quello che è stato il passato ma presenta anche dei contenuti molto moderni che la rendono sicuramente adatta a un utilizzo contemporaneo quindi un utilizzo del 2022 bene quindi se vi è piaciuto mettete un like dislike se non vi è piaciuto iscrivetevi al canale e attivate la campanella così sarete sempre aggiornati sulla novità qui sotto molto graditi i vostri commenti ciao a tutti e buona serata